Dottor Martorano, non soltanto squadra volante, quindi le autovetture che siamo abituati a vedere sfrecciare in caso di necessità in soccorso pubblico, ma anche mezzi nautici, una motovedetta, ma anche acquascutari, insomma d'estate la polizia è anche sul mare. Esatto, per la questura di Imperia la prossimità vuol dire anche prossimità in mare e considerate le caratteristiche del territorio ed essendo Imperia una città a vocazione turistica, il questore, il dottor Capocasa, ha ritenuto di dover implementare ancora di più l'utilizzo del personale utilizzando per l'appunto due moderni acquascooter che vedrete sfrecciare nei prossimi giorni per lo specchio acqueo di Imperia e che di fatto svolgono lo stesso servizio che viene svolto dalle volanti della questura. Quindi insomma un controllo nelle strade, nelle vie cittadine, anche nelle spiagge, anche nel tratto di mare poi destinato alla balneazione, voglio dire. Esatto, un tratto di mare che costituisce una parte consistente del territorio che quindi non può sfuggire al controllo preventivo della Polizia di Stato. Anche perché in estate diventa parte integrante della città, possiamo dire, questo mare. Esatto, parte integrante e quindi anche luogo in alcuni casi di commissione di reati.